Bambu! 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 è raiuto il mio leggo Oh Occhio! Vai a destra! Vai a destra! Vai a destra! Vai a destra! Eccolo! Mi hanno ribatto! Stiamo bene? Non si ribassi però! Non si ribassi! 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 Oh! Io lo faccio! Io lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Ma che altro? E' la bomba! E' la bomba! Vado! Sì! Non lo faccio! Ma e che altro! Quello che ti tocca! E' la bomba! E' la bomba che faccio! E' la bomba che ho fatto! E' la bomba che hai fatto! Noi quando non lo tiriamo! Noi, abbiamo visita. Noi, però puoi usare un passo davvero, sai da qua. Oh, 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 oh. Io voglio fermare, lo frisce. No, non bisogna fermare. No, no, no. Non vuoi fare, non stò davanti. No, no, non voglio fermare, lo fermo. Allora, non ci sono tutti più pieni. Comunque io voglio fare un certo messaggio. No, poi è giù. Prostante. Non lo mettete il piede. Guarda che stai io.